Un'ala compromessa da uno squarcio e l'atterraggio di emergenza a circa mezz'ora dalla partenza. Momenti di paura ieri sera sul volo Ryanair-Francoforte-Bari FR5216, sul quale viaggiavano molti pugliesi di rientro dalla città tedesca. L'aereo, poco dopo il decollo, a causa di un'ala che si è squarciata, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza e tornare al punto di partenza a Francoforte. Mentre eravamo sull'aereo a 30-40 minuti in volo, praticamente abbiamo visto un hostess che riceveva la chiamata dal pilota di comando, che praticamente il pilota avrà riferito che c'era un problema, l'unica cosa che noi tutti a bordo abbiamo verificato, abbiamo visto che l'hostess era abbastanza preoccupata e comunicava all'altra vicino che c'era qualcosa che non andava, quindi spiegava in inglese quello che era il problema. E si hanno iniziato poi dopo, piano piano, ad avvertire le prime file, dicendo di stare calmi perché dobbiamo fare un atterraggio di emergenza. Siamo tornati indietro e quei 20-30 minuti di ritorno, siamo tutti quanti e c'era molta preoccupazione, c'era chi pregava, chi si stava piangendo, chi rideva per non piangere. Gli hostess non riuscivano neanche loro a tranquillizzare, né noi né loro, perché loro stavano abbastanza, pure loro sconvolte. Siamo riusciti ad atterrare e niente, poi non ci hanno fatto scendere per una venta di minuti. Noi certo quando stavamo atterrando avevamo visto tante luci blu e rosse, quindi c'erano vigili del fuoco, c'erano anche ambulanze, polizia. Poi dopo abbiamo visto che quando siamo atterrati non ce n'erano più, quindi avevano comunicato che era tutto a posto, era andato bene l'atterraggio. Per i passeggeri nessuna conseguenza. Dopo alcuni minuti di attesa, i viaggiatori sono stati fatti salire su un altro aereo che è regolarmente partito alla volta di Bari. La compagnia, scusandosi con i passeggeri, in una nota ha riferito di un danno all'ala verificatosi nelle operazioni di rientro del carrello di atterraggio.